Siamo ospiti del colore di Bonzampolo, uno dei tanti comuni dove si è rivotato e noi giustamente presentiamo agli amici di Yant, un volto noto agli Yant e anche a Radio R9, quando esisteva Massimo Narcisi. Noi facciamo tutti i complimenti. Grazie, grazie Carlo. Buongiorno a tutti gli amici di Yant e ben ritrovati, quindi anche se in una veste diversa, però è un piacere essere di nuovo con voi. Ecco, hai fatto qualcosa al quale tenevi tanto e lavoravo tantissimo prima con Caioni, però giustamente per dare un seguito in un modo diverso ci tenevi tanto a prendere questo ruolo per un comune piccolo ma con ambizioni di crescere e di fare qualcosa di importante sul territorio. Sì, diciamo che questa nuova elezione, quindi questo nuovo ruolo arriva dopo anni di impegno, come dicevi tu, per il nostro territorio, quindi da assessore, da vice sindaco nell'ultimo mandato ed oggi invece mi trovo a ricoprire questo ruolo importante, un ruolo supportato da una squadra eccezionale che, come dicevi tu, adesso deve solo iniziare a lavorare perché Monzampolo deve rilanciarsi sicuramente. Ecco, i nostri comuni dell'entroterra sono quelli che fanno un po' da volano a quello che è il discorso del mare e spesso sappiamo che molti curiosi li vengono a visitare, qui sicuramente avrai tante cose alle quali stai lavorando, però hai già qualcosa che sta lì imminente per partire oppure stai proseguendo quello che era il lavoro fatto in precedenza? Ma guarda, sicuramente abbiamo ripreso e ripartiamo dalle cose buone fatte in precedenza, quindi quella sinergia con la costa, con le strutture alberghiere la riporteremo avanti e la potenzieremo perché comunque ha portato un flusso di turisti non indifferenti a Monzampolo e quando parlo di Monzampolo intendo in particolare il centro storico, il nostro borgo che è molto apprezzato dai turisti che vengono, quindi con i musei, con il centro storico da vedere. Quindi su quello ripartiremo, organizzeremo degli eventi anche qui in continuità, c'è il Vintage Village subito a luglio, adesso dovremo definire bene con gli organizzatori il data e poi tutta una serie di iniziative che stiamo mettendo in campo, ancora non siamo perfettamente strutturati ma non vediamo l'ora di iniziare a lavorare. Io ti faccio i complimenti ancora e lì in bocca a loro per questa nuova avventura ma sei giovane e forte anche per affrontare questo. Crepi e grazie mille per il tuo sostegno, comunque per la vostra vicinanza e niente, iniziamo a lavorare poi magari ci rincontreremo sicuramente prossimamente per raccontarvi quanto abbiamo fatto e quanto stiamo facendo.